Il partito democratico dice sì a Renzi, ma sul suo italicum con premio di maggioranza e doppio turno è aspro lo scontro con la minoranza che si prepara alla battaglia in aule e a chiedere le preferenze. C'è anche Alfano, nessuna modifica in Parlamento, prendere o lasciare a Monito però Renzi che questa sera incontra i deputati PD. Intanto Letta accelera sul patto di coalizione e pensa di rinnovare la squadra di governo. Il sistema giustizia boccheggia, sono quasi 9 milioni i processi pendenti e l'allarme lanciato dal ministro Cancellieri. Troppi reati, il sistema intasato, sottolinea la Guardia Sigilli, che difende però la produttività dei magistrati e interviene anche sul problema del sovraffollamento delle carceri, irrisolvibile, dice, con amnistia e indulto. La crisi intanto continua a togliere ossigeno a imprese e famiglie italiane che non hanno più soldi per saldare i debiti. Le difficoltà a pagare le rate dei prestiti negli ultimi 12 mesi fanno segnare un più 23%, sfiorando i 150 miliardi di euro. Ma c'è anche la serrata dei rubinetti del credito con un taglio di 66 miliardi di euro. Finte donazioni alla Chiesa per far sparire denaro contante, con l'accusa di riciclaggio è scattato un nuovo arresto per Monsignor Scarano, l'ex contabile dell'Apsa, cioè l'amministrazione, patrimonio, sede apostolica, che era già stato coinvolto nello scandalo Ior. Disposto anche il sequestro dei suoi conti correnti presso la Banca Vaticana e i domiciliari, anche un altro sacerdote. Riflettori puntati questa sera sull'Olimpico, dove si affrontano le due protagoniste del campionato, la Roma e la Juventus, per i quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi cercano la semifinale, ma anche il riscatto, ovviamente dopo la sconfitta di Torino. Per il carciomercato la trattativa è in corso, i tifosi sono sul piede di guerra per lo scambio tra l'attaccante della Juventus, Bucinic, e l'interista, Guarinna. Buongiorno a tutti, ben trovati. Dunque, l'avete sentito già accennato nei titoli, oramai davvero guerra aperta all'interno del PD tra le due correnti, soprattutto dopo l'accelerazione e la presentazione da parte di Renzi della sua riforma elettorale. Una guerra che in realtà già c'era all'inizio, già si era respirata nei giorni precedenti, ma che ieri ha avuto la sua apoteosi, il suo acme con l'uscita di Cuperlo durante la direzione, proprio mentre parlava il segretario. Questa sera, peraltro, ci sarà il faccia a faccia tra Renzi e tutti i deputati all'Assemblea del PD alle 21. Se è riuscito a compattare la maggioranza in Parlamento, l'accordo di Renzi sulla riforma elettorale è anche riuscito a mettere in difficoltà parte del suo partito. Quella minoranza a sinistra che ieri in direzione avrebbe volentieri votato contro l'Italicum, ma che alla fine ha preferito astenersi per non avvelenare ancora di più il clima, già piuttosto teso. Ma soprattutto per non essere accusata di non voler fare le riforme. Gianni Cuperlo, però, come promesso, ha voluto manifestare il suo dissenso apertamente, con un attacco durissimo contro Renzi per aver riabilitato Berlusconi e contro la riforma definita poco convincente, perché non garantisce né la rappresentanza, né la governabilità, né il diritto dei cittadini di scegliere gli eletti. Durissima anche la replica del segretario. Avrei voluto sentirti parlare di preferenze quando sei stato candidato nel listino senza fare le primarie. Ha attaccato Renzi, un affondo che ha fatto esplodere la rabbia dell'intera area bersaniana, mentre Cuperlo abbandonava la sala minacciando le dimissioni da presidente. Un brutto episodio per la vita del PD, commenta oggi Pippo Civati. Renzi, che già in una posizione di forza potrebbe evitare di essere così pesante, dovrebbe risparmiarsi certi commenti, come quando ha detto a Cuperlo che se se ne andava era un problema suo. Detto questo, non penso sia il caso di fare la guerra a Renzi nel PD, se no ci suicidiamo tutti. A difendere la linea renziana ieri sono scesi in campo anche i leader storici, da Walter Beltroni a Piero Fassino e persino Franco Marini. Tutti compatti nel richiamare il partito all'unità. La minoranza però promette battaglia in Parlamento. Matteo Renzi è riuscito a convincere Berlusconi sul doppio turno, ma non siamo d'accordo sulle liste bloccate che devono essere modificate, annuncia il deputato bersaniano Alfredo Dattorre. Contrastando di fatto la blindatura sulla riforma annunciata ieri da Renzi. Se si cambia qualcosa salta tutto, avvertito il segretario. Non ho mai visto una direzione del nostro partito in cui il segretario si presenta e dice questo è il nostro pacchetto, prendere o lasciare, spiega il bersaniano Davide Zoggia. Il tema non è quello di non scrivere le regole con Berlusconi, il tema è scrivere regole condivise, non mettere in difficoltà il governo e avere rispetto all'interno del partito anche di opinioni che non siano coincidenti. Intanto, dopo l'ok di ieri, la riforma elettorale inizia il suo iter parlamentare. Mercoledì il testo della nuova legge, premio di maggioranza oltre il 35%, ballottaggio eventuale tra le due migliori coalizioni, listini bloccati, sbarramento al 5% per i partiti all'interno della coalizione, del lotto per chi si presenta da solo, sarà depositato in Commissione Affari Costituzionali della Camera e il 27% sarà discusso in aula per essere approvato definitivamente entro maggio, così come chiede Renzi, sempre che non ci siano nuovi ostacoli. Naturalmente quello che tutti si chiedono, in particolare i politici, è quanto questo nuovo sistema elettorale potrebbe influire sui partiti esistenti. Sono diverse infatti le simulazioni come sarebbe il Parlamento con questa nuova legge. Ovviamente una cosa è certa, lo avete capito anche dal servizio, ci sarebbe una maggioranza sicura, una maggioranza assicurata e soprattutto in Parlamento ci sarebbero pochi partiti. Anche sulla base di questo sono state diverse le reazioni delle varie formazioni politiche. Dal Presidente del Consiglio nessun commento sulla legge elettorale, i rapporti tra Premier e segretario restano gelidi dopo le vicessitudini degli ultimi giorni, nonostante l'intesa siglata da Renzi sulle riforme metterebbe il governo al riparo per almeno un anno. Letta lavora per chiudere il patto di maggioranza e pensa sempre di più ad un nuovo incarico che lo sancisca, un Letta bisse, non un rimpasto, perlomeno una rinfrescata alla squadra per rilanciare l'immagine dell'esecutivo e per cercare di coinvolgere Matteo Renzi, fin qui platealmente disinteressato all'argomento. Una crisi pilotata in accordo con Quirinale e Renzi da realizzare entro questa settimana anche in vista dell'incontro del 29 gennaio a Bruxelles con i vertici dell'Unione Europea. L'intesa sulle riforme lascia soddisfatto Silvio Berlusconi. Renzi è rappresentato in modo chiaro e corretto il contenuto dell'intesa raggiunto sabato scorso e che con convinzione abbiamo offerto al Parlamento e al Paese, dice il leader di Forza Italia, vogliamo realizzare un limpido sistema bipolare. Lo sbarramento del 5% per i piccoli partiti rappresenta un traguardo di un antico obiettivo berlusconiano, così come il listino bloccato sul quale l'ex Premier è stato irremovibile. Alfano, che ha ottenuto il doppio turno e la ripartizione nazionale dei seggi, a sua volta non rinuncia alla battaglia sulle preferenze. Da un lato esprime apprezzamento per l'impianto generale della legge, ma dice no al Parlamento dei nominati. Che la battaglia non sia finta, dice a sua volta Cicchitto, che sull'unità mette sullo stesso piano Berlusconi e Renzi. Il paradosso è essere usciti da un partito con logica padronale e personale per ritrovarsi con un leader a sinistra ispirato alla stessa logica. Soddisfatta scelta civica, il doppio turno è l'unico modo per garantire la governabilità, dice Linda Lanzillotta, mentre da Fratelli d'Italia Giorgia Meloni fa sapere che l'unica condizione che pone il suo gruppo è che siano abolite le liste bloccate. Per Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, il modello presentato è da Corea del Nord. I primi prendono tutto e lasciano le brisciole agli altri. Grillo a sua volta attacca l'accordo raggiunto tra Renzi e Berlusconi, ribattezzato sul suo blog Pregiudicatellum. Ma tra i Cinque Stelle non mancano malumori. La scelta di Grillo e Casaleggio di non trattare sulla legge elettorale agita una parte dei parlamentari. Così siamo diventati irrilevanti. E non solo perché in queste ore tutto il mondo politico deve fare i conti anche con una nuova emergenza, peraltro non nota ma non per questo meno grave, che è stata rilanciata con grande enfasi questa mattina dal ministro della giustizia italiana Cancellieri. La giustizia nel nostro paese, come si sa e come è ben noto, va molto a rilento. Per capire di che parliamo, basti pensare che ci sono 9 milioni di processi che sono ancora pendenti. Concentrerò il mio intervento su quanto realizzato e soprattutto sulle criticità del sistema. Il ministro è chiaro e va subito al punto. Il sistema giudiziario non è efficiente perché il carico di lavoro resta eccessivo. Alla data del 30 giugno 2013 si contano 5.257.693 processi pendenti in campo civile e quasi 3 milioni e mezzo in quello penale. Il sistema continua ad essere in sofferenza, nonostante la risposta offerta dalla magistratura italiana che l'ultimo rapporto della Commissione europea per l'efficienza della giustizia colloca ai primi posti in termini di produttività. Troppi processi ma anche troppi reati previsti dal codice determinano la sofferenza del sistema. Una criticità che rischia di non avere soluzioni in tempi brevi. Perché, dichiara il guardasigilli, Siamo in presenza di un fenomeno imponente di dilatazione in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi del lavoro giudiziario è provocato non solo da un aumento della litigiosità nel campo civile o dell'attività criminale in campo penale. Le cause sono molteplici e hanno le loro radici anche nelle trasformazioni in atto della società moderna. Cancellieri ha difeso la riforma della geografia giudiziaria. Tagliare i piccoli tribunali ha significato aumentare le risorse nelle sedi maggiori come Milano, Torino e Napoli. Ha ricordato, intervenendo poi sul problema del sovraffollamento delle carceri. Amnistia ed indulto potrebbero risolvere il problema. Al Parlamento, ha detto Cancellieri, resta la responsabilità di scegliere se ricorrere a quegli strumenti straordinari evocati dal Presidente della Repubblica e che darebbero anche una risposta alle sollecitazioni europee in materia di giustizia. L'attuale condizione di difficoltà non deve essere comunque un alibi per l'immobilismo, ha detto Cancellieri. L'anno 2013 ha visto il Ministero della Giustizia impegnato a fondo su alcuni temi fondamentali nei più delicati settori di competenza. Tutti connotati da una situazione prossima all'emergenza e tutti essenziali per la corretta tutela dei diritti e soprattutto delle persone più vulnerabili. Oltre a quella della giustizia, sicuramente l'altra grande riforma su cui hanno tentato di impegnarsi, senza arrivare però fino in fondo i governi negli ultimi decenni, è la riforma delle pensioni. C'è una novità, o meglio potrebbe esserci, perché questa mattina il Ministro del Lavoro Giovannini ha annunciato che il Governo sta lavorando a un piano per consentire ai lavoratori di andare in pensione prima rispetto a quanto previsto dalla riforma Fornero. Giovannini però ha voluto anche specificare che il piano è ancora lo studio, lo stanno disegnando come strumento flessibile in funzione delle diverse esigenze soggettive dei lavoratori. Così dice Giovannini, insomma si applicherà a dei casi specifici e non sarà una vera e propria riforma delle pensioni. Giovannini poi ha ipotizzato che il pensionamento anticipato potrebbe essere possibile con il contributo dello Stato, ma anche con il contributo delle aziende e dei lavoratori. Naturalmente in tutto questo quadro resta ancora molto complicata e difficile la questione economica, la crisi economica, anche se questa mattina l'Istat che ha diffuso i dati sull'inflazione fa notare che per una volta beneficiare del calo dell'inflazione nel 2013 sono state soprattutto le famiglie che spendono meno, le cosiddette famiglie meno abbienti, anche se per tutte famiglie e soprattutto imprese resta il problema della liquidità dei soldi che mancano. Le imprese e le famiglie italiane non hanno più i soldi per onorare i propri debiti. Quelle che in gergo si chiamano sofferenze bancarie, ossia le difficoltà a pagare le rate dei prestiti ottenuti dalle banche, in un anno sono cresciute del 23%, passando dai 121,8 miliardi di euro registrati a novembre del 2012 ai 149,5 miliardi di euro dello stesso mese del 2013. Numeri che ancora una volta danno la misura di quanto si approfonda la crisi economica che ha colpito principalmente il tessuto produttivo del nostro Paese. Secondo i risultati dell'analisi fatta dal centro studi di un'impresa, l'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese italiane, la parte più grossa dei debiti che non vengono rimborsati riguarda soprattutto le imprese. Sono 103 i miliardi di euro che non vengono restituiti alle banche, più 26% in un anno. Mentre le sofferenze delle famiglie che non rendono i soldi prestati si aggirano intorno ai 31 miliardi di euro. Qui l'aumento in un anno è stato del 14%. Rispetto alla fine del 2010 e in meno di tre anni, dice un'impresa, le sofferenze si sono praticamente raddoppiate. Insomma, la crisi ha stretto tutti in una tenaglia che toglie ossigeno all'economia e riduce la disponibilità delle banche a continuare a prestare denaro. I rubinetti del credito anche per queste sofferenze si sono chiusi sempre di più. In un anno gli istituti di credito infatti hanno tagliato 66 miliardi di euro di prestiti calati al ritmo di oltre 5 miliardi al mese. Un vero circolo vizioso che crea un quadro allarmante perché senza finanziamenti l'uscita dalla crisi diventa un'impresa titanica per tutti. Giusto domani, dopo 5 anni di crisi profonda, l'Unione Europea presenterà un piano da 100 miliardi di euro da qui al 2020 per rilanciare l'industria del vecchio continente. L'obiettivo è quello di ridare slancio agli investimenti nel settore manifatturiero e abbandonare così le politiche di austerità. E sembra risolto dopo una lunga riunione questa mattina lo scontro che si era creato la frattura tra governo e sindaci locali calabresi sul porto Gioia Tauro che deve ospitare la nave con a bordo le armi chimiche siriane che devono essere smaltite. Sentite. Abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni, dichiara il sindaco di Gioia Tauro, Bello Fiore, uscendo da Palazzo Chigi, dove insieme agli altri amministratori locali coinvolti ha partecipato all'incontro con il governo. Il premier spiega ancora, ci ha spiegato che si tratta di un'opportunità per il territorio e soprattutto che il porto di Gioia Tauro è stato scelto in quanto struttura di eccellenza. Parole che però non hanno fugato tutto lo scetticismo che a livello locale ancora avvolge l'operazione. Abbiamo sottolineato, aggiunge Bello Fiore, che resta il rischio per la popolazione e per il territorio e soprattutto che manca una struttura sanitaria obbligatoria in presenza di questo tipo di operazioni. Abbiamo quindi chiesto la presenza dei ministri coinvolti durante le operazioni di trasbordo. Operazioni che, ha spiegato il presidente della regione Calabria Scopelliti, avverranno in mare, da nave a nave, in un raggio di sicurezza che non coinvolge il territorio. Proprio Scopelliti, entrando a Palazzo Chigi, aveva chiesto garanzie e certezze in quanto portavoce delle disagi e della preoccupazione di un territorio. Ma non soltanto. Gli amministratori locali hanno messo sul tavolo la questione dell'istituzione della zona economica speciale per Gioia Tauro. Non ci si può ricordare di noi soltanto in casi come questo, hanno spiegato. L'Arc Futuro, intanto la nave danese su cui sono imbarcate le oltre 500 tonnellate di sostanze tossiche, arriverà entro fine mese in vista delle coste calabresi. Per allora tutto dovrà essere già pronto, sia per ridurre i rischi e soprattutto per non allungare i tempi del trasbordo sull'unità statunitense, la Cape Ray, che dovrà poi provvedere alla distruzione del carico. Ma la decisione di individuare il porto di Gioia Tauro, lamentano gli amministratori, è stata presa senza averne reso partecipe nessuno in ambito locale. L'ho saputo tutti quando è uscita questa notizia sui giornali e devo dire che qualcuno in Calabria ha tentato di mettermi in mezzo al fatto che io lo conoscevo, che avevo questa notizia già dal 9 gennaio. Niente di più falso. All'attacco del governo anche i 5 Stelle. Questa mattina quattro deputati del movimento di Beppe Grillo hanno denunciato di non essere stati ammessi alla riunione. È molto grave, hanno detto, che dei parlamentari calabresi siano stati esclusi dall'incontro tra il governo e i sindaci del territorio. E per domani i sindaci si sono nuovamente convocati a Gioia Tauro per valutare gli esiti dell'incontro con Letta e decidere eventuali iniziative di protesta, un appuntamento al quale hanno invitato anche i ministri Lupi e Bonino. Nuoveguai giudiziari per Monsignor Scarano, l'ex addetto contabile dell'Apsa della Santa Sede, che era già stato coinvolto peraltro nello scandalo IOR, gli è stata notificata proprio questa mattina una nuova misura cautelare. Le accuse sono di falso e riciclaggio. Era stato già arrestato a giugno dal GIP di Roma. Oggi per Monsignor Nunzio Scarano è stata emissa una nuova ordinanza di custodia cautelare, questa volta con le accuse di concorso in riciclaggio e falso in atto pubblico, reati che secondo la procura di Salerno avrebbe commesso con un altro sacerdote, Don Luigi Noli, parroco a Palidoro, alle porte di Roma. Secondo i magistrati salernitani, Monsignor Scarano, ex responsabile dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, avrebbe organizzato false donazioni servite per coprire un grosso riciclaggio di denaro. La motivazione era sempre la stessa. Con il pretesto di dover ripianare i debiti di una società immobiliare titolare di alcune abitazioni del centro storico di Salerno, Scarano avrebbe contattato una sessantina di persone, imprenditori e professionisti. Tutti avrebbero consegnato un assegno circolare da 10.000 euro. In realtà gli assegni, secondo gli inquirenti, sarebbero stati, come si dice in gergo, solo una partita di giro, ovvero al momento della consegna dell'assegno i donatori avrebbero ricevuto il corrispettivo incontante. Nel corso delle indagini è emerso che da uno dei conti dello IOR, la Banca Vaticana, venivano prelevati circa 600.000 euro per l'estinzione attraverso false certificazioni di donazioni di un mutuo ipotecario intestato a un immobiliare di cui Scarano risulta socio. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 2 milioni di euro tra immobili e conti correnti, a lui riconducibili e giacenti presso lo IOR. Le ingenti somme di denaro nella disponibilità di Scarano per un importo superiore ai 5 milioni di euro, secondo gli inquirenti, erano destinate a finalità assistenziali e benefiche solo in apparenza. Sarebbero invece state utilizzate dal Monsignore per investimenti immobiliari, compreso un appartamento di 17 vani a Salerno, dove sta scontando i domiciliari e per la costituzione di svariate società immobiliari. Nella capitale dove si indaga da tempo sui conti dello IOR, l'alto prelato è sotto processo perché accusato di corruzione in concorso con l'ex agente dei servizi Giovanni Zito e il blocker Giovanni Carenzio per il tentativo fallito di far rientrare in Italia 20 milioni di euro dalla Svizzera. E proprio un attimo fa un portavoce dello IOR ha voluto specificare che i conti di Monsignor Scarano sono in realtà stati congelati sin da luglio scorso e tutte le notizie riguardanti gli ultimi dieci anni di attività sono state consegnate e dunque sottoposte alle autorità, quindi nel segno di una massima collaborazione. Adesso vediamo che cosa sta succedendo in queste ultime ore in Ucraina. Come sapete le manifestazioni oramai da domenica scorsa vanno avanti e non si fermano, restano in piazza i manifestanti filoeuropeisti, ma adesso lo scontro molto violento, peraltro ci sono già 120 agenti feriti, lo scontro si è trasferito anche a livello diplomatico, da una parte la Russia che naturalmente appoggia il governo di Kiev e dall'altra l'Unione Europea. Nella terra di nessuno che si è creata tra la polizia schierata in assetto antisommossa e le barricate erette dai manifestanti, questa mattina si aggiravano quattro preti. Accompagnati da donne che innalzavano icone sacre, croci bizantine, i religiosi hanno cercato di raffreddare gli animi, di riportare un po' di calma nella piazza Maidan di Kiev, dove da domenica è in corso una feroce guerriglia. I preti hanno parlato sia con i dimostranti che con gli agenti, qualcuno li ha ascoltati, qualcun altro ha continuato in perterrito a spaccare San Pietrini e preparare bottiglie Molotov. Poiché sia stato grazie all'intervento dei preti oppure no, da qualche ora nel centro di Kiev è tornata la calma, anche se la tregua appare molto fragile. La polizia ha abbattuto parte delle barricate che i manifestanti hanno eretto domenica, anche dando fuoco ad un autobus e distrutto una rudimentale catapulta. Oltre 30 persone sono state arrestate, mentre negli ospedali sono ancora ricoverate un centinaio dei più dei 200 feriti di queste 48 ore di guerriglia. Più o meno sono equamente redistribuiti tra poliziotti e manifestanti. A livello politico la situazione è sempre più complicata. Dal carcere la passionaria Yulia Timoshenko getta benzina sul fuoco, facendo sapere ai manifestanti che se fosse libera combatterebbe a loro fianco. Gli altri due leader delle proteste antigovernative stanno cercando di mediare con il governo di Yanukovic, ma vengono accusati di tradimento dalla piazza. L'ex pugile Vitali Klitschko ieri ne ha fatto le spese, quando, sceso tra i manifestanti per tranquillizzare un po' gli animi, è stato aggredito. La protesta ormai è inquinata da frange estreme, che sia una parte che l'altra accusano di essere infiltrate. Ad esacerbare gli animi è arrivata anche la legge speciale che proibisce tutto ciò che sta accadendo. Manifestazioni non autorizzate, casche e maschere sul viso, tende piantate in piazza, assembramenti di auto, una legge ad hoc. Mentre il presidente Yushchenko cerca una via d'uscita, dall'alleato russo è arrivato l'ennesimo sostegno. Il ministro degli esteri, Lavrov, ha attaccato l'Unione Europea e l'appoggio che sta dando all'opposizione. L'Ucraina dovrebbe risolvere i propri problemi senza interferenze esterne e la Russia, ha chiarito Lavrov, farà di tutto per evitare la destabilizzazione del paese. Una regione che invece sicuramente è destabilizzata, è la regione medio orientale con la crisi siriana che non riesce a essere risolta. Domani si apre ufficialmente la conferenza internazionale, ma sembra essersi impantanata, ancora prima di cominciare. La posta in gioco è alta, le speranze basse. Salvo altri colpi di scena in questo hotel di Montreux, a due passi da Ginevra, che domani si aprirà la conferenza, tra misure di sicurezza eccezionali, ma con l'assenza di un peso massimo medio orientale, l'Iran. Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite, che vedete al momento dell'arrivo a Ginevra ieri, ha rischiato di mandare all'aria la conferenza che lui stesso sponsorizza col suo invito, last minute, proprio a Teheran. La Russia si dichiarava subito soddisfatta, Stati Uniti e Unione Europea, presi in contropiede, erano perplessi. Furiosi gli stati arabi e l'opposizione siriana, raccolta sotto la sigla della conferenza nazionale. Teheran è sempre il maggior alleato di Assad nella regione e continua a rifornire il regime di uomini e di armi. O l'Iran o noi, dicevano i ribelli, che ponendo all'ONU un autentico ultimatum, riuscivano ad ottenere il ritiro dell'invito. Un terremoto diplomatico, quindi scoppiato, prima ancora che ai due lati del tavolo si siedano i rappresentanti del regime di Bashar Assad e i suoi avversari. Escludere l'Iran è stato un errore, ma non una catastrofe, dice oggi il ministro degli esteri russo Lavrov, che comunque parla di un infortunio da parte delle Nazioni Unite. Emma Bonino, invece, assicura che l'assenza dell'Iran dai negoziati è solo temporanea. Le speranze, comunque, dicevamo, che da questa Ginevra 2 arrivi la soluzione al conflitto in Siria sembrano deboli. Ieri Assad non è stato per nulla conciliante. Ribelli o jihadisti sono la stessa cosa, ha detto il Reis di Damasco. Non escludo di presentarmi alle prossime elezioni presidenziali di giugno e l'idea che nel prossimo governo entrino esponenti dell'opposizione è irrealizzabile. Non sembra certo una posizione di apertura. Ma sono i numeri del conflitto a spingere la diplomazia internazionale ad uno sforzo ostinato. Due milioni profughi scappati dalla Siria che rendono insostenibile la situazione di paesi come Libano e Giordania. Altri sei milioni di persone che hanno lasciato le loro case pur restando nei confini siriani e che avrebbero bisogno di un'assistenza che nessuno riesce a fornire. Più di centomila le vittime del conflitto. Ed è di oggi la pubblicazione di un rapporto basato sulle rivelazioni di un fotografo che avrebbero lavorato per il regime di Assad. Le immagini di 11 mila corpi sfigurati e torturati uccisi nei tre anni di guerra civile. Adesso è difficile passare così bruscamente a un altro argomento, cioè al calcio con la trattativa tutta in via di definizione di calcio-mercato per lo scambio come sapete tra lo Juventino-Vucini e l'interista Guarin. Mentre questa sera tutti gli occhi sono puntati verso l'Olimpico per la sfida della Coppa Italia tra Roma e Juventus. Da sempre il derby d'Italia, ma questa volta Juventus ed Inter non lo giocano sul campo. Da 24 ore le due società si confrontano per portare a termine uno scambio che sembrava già fatto e che invece è diventato un intrigo internazionale. Il giro di Walser-Vucinic-Guarin piaceva. Piaceva ai tecnici. Mazzarri già da tempo aveva individuato nell'ex romanista un rinforzo ideale. Conte non ha mai nascosto l'apprezzamento per il guerriero colombiano. Piaceva alle società, piaceva ai giocatori. Guarin aveva minacciato di non presentarsi nemmeno agli allenamenti alla Pinettina. Wucinic ha disertato l'ultimo test pre Coppa Italia e sta adesso nella sede dell'Inter. E invece quella che sembrava la prima mossa di mercato piazzata dal nuovo patron Tohir si è trasformata in un micidiale boomerang facendo esplodere tutte le contraddizioni del passaggio di proprietà. Troppa la distanza non solo geografica tra l'Indonesia e la Pinettina. Troppo poco. Una unica vittoria nelle ultime otto partite per impedire l'insurrezione della tifoseria nerazzurra ed il conseguente stop della trattativa. In questo momento gli agenti dei giocatori sono a confronto con le dirigenze delle due società in un albergo milanese mentre i giocatori hanno le valigie pronte e le visite mediche prenotate. Ufficialmente il motivo del contendere è legato al conguaglio che l'Inter vuole per il più giovane Guarin rispetto al trentenne Wucinic. Una distanza colmabile, colmabilissima ben diversamente dall'abisso che si è aperto tra la pancia e la testa dell'Inter un ostacolo che potrebbe essere insormontabile. Ma la testa della Juve oggi è alla sfida infinita con la Roma. I quarti di Coppa Italia mettono di fronte le regine del campionato e le regine della Coppa nove vittorie per una nonché i loro uomini faro i sempiterni, totti e pirlo. Una sfida che la recente elezione in partita dai bianconeri rende ancor più accesa forse troppo al punto che lo stesso allenatore romanista Garzia alla vigilia cercare di riportarla sui binari della normalità. E anche Antonio Conte evita di dare a quello che è un quarto di finale di Coppa Italia un significato eccessivo. Conferenza stampa pre-partita cancellata allenamento all'Olimpico annullato ed epistaggio che parla di un turnover che potrebbe essere più consistente del previsto persino troppo per crederci davvero. Certamente il Conte dei record in cor suo non può snobbare un trofeo che manca dal 1995 nella bacheca bianconera. Adesso ci fermiamo solo qualche istante e poi torniamo per gli aggiornamenti. Eccoci nuovo in diretta. Prima di salutarvi devo un ultimo aggiornamento. È stato annunciato poco fa dalla Casa Bianca che ha previsto un viaggio europeo del Presidente americano in Europa. Sarà a Roma in particolare il prossimo 27 marzo. Incontrerà per la prima volta tra l'altro Papa Francesco. Incontrerà anche il Capo dello Stato napolitano e il Premier Gianni Letta. Adesso io vi lascio come sempre a Caterina Bizzarri al TG Cronache e naturalmente torneremo sulla questione delle navi di ritorno dalla Siria per il trasbordo delle armi chimiche siriane che devono essere distrutte perché avremo ospite in studio al TG Cronache e il sindaco di Gioia Tauro. Grazie per l'attenzione e noi ci vediamo domani.